Cioccolato. Fuso! Alki Kenji, uno dei miei frutti preferiti. Me li permetto solo a Natale perché non sono molto sostenibili, vengono dalla Colombia. In frigo a raffreddare. Tuffiamolo nel cioccolato! Che spettacolo, mi si vede riflesso nel cioccolato. Mettilo a stendere. Raccogli le gocce con le dita. E gusta! Alki Kenji cioccolatosi! Buono! Asprino come piace a me. Quale sarà il prossimo? Marakuya o Kiwano? Alki, stava camminando tranquilla. Quando un giorno incontrò Kenji. Quando lo vide disse Wow! E perse la testa.